Sulla pelle, nelle vie respiratorie, nelle vie urogenitali e nel tratto gastrointestinale, all'interno del corpo umano si contano oltre 100.000 miliardi di batteri. Tutti sono fondamentali per l'organismo, al punto che ogni persona è dotata di una propria impronta digitale batterica, anche detta fingerprint batterico. La flora batterica intestinale è assolutamente fondamentale per il nostro benessere, in quanto regola il sistema immunitario, il benessere gastrointestinale, ci difende da organismi patogeni, favorisce l'assorbimento di nutrienti, vitamine, sali minerali e partecipa anche al metabolismo generale. In una situazione ideale all'interno dell'intestino si deve creare una sorta di pacifica convivenza fra i batteri benefici e quei microorganismi potenzialmente dannosi. In caso di alimentazione irregolare, di uno scorretto stile di vita o durante un viaggio in paesi in cui le condizioni igieniche non sono ottimali, le specie patogene possono prendere il sopravvento sui batteri benefici. In questo periodo si fa molto uso di antibiotici, antibiotici che se da una parte uccidono i batteri patogeni, uccidono anche i batteri benefici. In tutti questi casi il consiglio è di assumere un buon probiotico per ristabilire l'equilibrio della flora batterica intestinale.